This is Radio Phone The Dawn Station E manca meno un quarto d'ora esatto al collegamento di Uviza e noi ci siamo Quindi noi stasera per caso, casualmente siamo stati in diretta dalle 19 alle 22 saremo in diretta Quindi dalle 19 alle 20 saremo in trasmissione Infatti avete già sentito il party time e la trasmissione adesso che sto parlando in voce E dopo sentirete il suono di Uviza Global Radio dalle 20 alle 22 This is Radio Phone The Dawn Station La ringrazio sempre a Sirio La ringrazio sempre a Sirio E mancano 13 minuti e 12 secondi all'inizio della seconda ora This is Radio Phone The Dawn Station 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.